Questa è la mia città, Pompei, quella dove sono cresciuto e dove vivo da sempre. Ho viaggiato e visitato altre città, ma la mia ha un fascino speciale. Storia, religione, tradizione, tutte queste cose si intrecciano qui, a casa mia. Vi racconto la mia vita in questa piccola, grande città, famosa in tutto il mondo. Alessia, stiamo a Pompei, una città che riceve 3 milioni di visitatori all'anno. È una città pericolosissima! Alfredo! Alessia! 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 Alessia!